Ben tornati all'appuntamento con Bookmania. Oggi torna con noi un ospite particolarmente gradito alla nostra trasmissione con il suo nuovo libro La Morte a Colori, Gianluca Morozzi, pubblicato dalla casa editrice Fernandel. Benvenuto con noi. Ciao, eccoci qua. È sempre un piacere averti nostro ospite perché ogni volta sei in grado di sorprenderci con le tue storie, storie che tra l'altro in un qualche modo sono sempre un po' collegate, e anche in questo caso c'è un piccolo riferimento per i tuoi fan a un altro tuo libro, ma non entriamo in questo dettaglio, insomma sappiamo che ami infilare qualche cadeau, insomma in qualche modo qualche piccolo riferimento in ogni tuo racconto, ma siamo davvero molto curiosi di scoprire tutto sulla Morte a Colori, tutto quello che si può dire, perché viene definita una commedia romantica, ma esiste anche la suspense, esiste il mistero, esistono anche i brividi, quindi una storia sicuramente in grado di sorprenderci. La cosa però che ci incuriosisce di più è, intanto se ci puoi raccontare che cos'è la Morte a Colori e che cosa ti ha ispirato questa storia. La Morte a Colori è un dono che possiede il protagonista, che si chiama Felice Venturi, un ragazzo bolognese che l'ha realizzato dalla madre e consiste nel, in questo, se Felice tocca un moribondo, non un malato, terminale, un moribondo con pochi minuti di vita, gli regala una illusione molto realistica e il personaggio non sa che è un'illusione, gli regala una vita migliore, che è durata lunghissima, come i sogni che non hanno un tempo preciso, sembrano durare tantissimo, ma anche se magari durano un minuto. Il personaggio che sta morendo nella vita vera e nella vita a colori, in realtà ha una prospera, è felice, è gioioso e non ha idea di essere in una illusione realistica. Quindi muore contento, in qualche maniera dopo molti anni in apparenza e l'ispirazione è stata della Matrix, la scelta la pillola rossa e la pillola blu. Riferisci una vita noiosa ma con la bistecca e con il cibo, con il paragone da quello, una quella sedentaria o andare a combattere delle macchine orribili in un mondo orrendo mangiando delle pillole. Ecco, non tutti sceglierebbero le pillole e le macchine orrende. Per cui, anche in un mondo illusorio ma molto bello, può essere accettabile. Sì, infatti è sicuramente curiosa anche la domanda che si pone anche sul retro di copertina, meglio una realtà breve e orribile o una lunga e appagante fantasia? Poi chiaramente la risposta sta a ognuno dei lettori di questa storia, che inizia subito con un autore, uno scrittore molto talentoso ma che si trova in un momento di difficoltà. Ed ecco, sono molto curiosa anche di questo perché gli scrittori, in particolare le storie, sono spesso protagonisti dei tuoi racconti o dei tuoi libri. Miro Massari è uno scrittore sfortunato, nel senso che a di tutti ha un grande talento, ha scritto un romanzo bellissimo ma la meritocrazia in questo mondo non è sempre di casa. e a un certo punto si trova a indebitarsi, convinto prima o poi di riuscire a sfondare, non ce la fa e la soluzione che trova è la più rapida, ovvero buttarsi dal punto della stazione di Bologna. E lì incontra... Ma qualcosa va storto o dritto è che atterra sul morbido e su una borsa abbandonata sotto il ponte e una borsa piena e strapiena di banconote che nessuno sembra voler reclamare, quindi si porta a casa e sistema la sua questione e da lì in poi tutto comincia ad andare benissimo, perché dal suo romanzo fanno un film, incontra la protagonista con la quale si fidanza e poi fa una figlia e poi tutto va bene, è tutto troppo bene, no? È tutto troppo bello. Finché qualcuno arriva a dirgli guarda che questa cosa che sta vivendo, io ti avviso, non è reale. Tu sei sotto il ponte da due minuti e non hai ancora moltissimi. Però, dice, se vuoi, io ti lascio altri dieci anni qua dentro, in questo mondo a colori, e ti dimenticherai di questo incontro, decidi, preferisci una realtà breve, dolorosa, ma reale, o questa fantasia dove hai una moglie, una figlia, sei ricco, famoso e felice? A me non pare sia una scelta, per cui lui sceglie quello che rifiugeremo tutti, secondo me, e rimane lì. Fino all'esaurimento, quando a un certo punto, di là, la sua vita finisce, ma nel frattempo ha vissuto decenni di stupenda e affagante successo e amore. Questo è il dono che ha Felice. Lui, dicevi, una ragazza bolognese normalissima, non combatte in via, quindi non è che aveva dei moribondi ovunque dove incontra. È successo alcune volte nella sua vita, una madre che stava morendo di malattia, e ora Felice ha una fidanzata che si chiama Vanessa, che è una donna molto bella, ma ha un problema, è mortalmente noiosa, e le ho attribuito delle caratteristiche che ho io, in realtà parlo solo di Bob Dylan, costantemente, che io amo, ma Felice no, Felice è molto poco, più Umberto Tozzi e Mas Pezzali che Dylan, e questa ragazza bellissima parla davvero costantemente solo di Bob Dylan. E lui dopo un po' sarebbe anche specialmente annoiato da questo rapporto, il problema è che Vanessa, la fidanzata, ha una malattia degenerativa. Lo avvisa. Io, ora, in questo momento sto curando, sto bene, ma prima o poi accadrà, non so quando, e lui a questo punto ha il senso di colpa. Devo starle accanto quando accadrà e toccarla al momento giusto. Solo incontra Agnese. Agnese è una ragazza di Perugia, si incontra sui social, si conoscono, si piacciono istantaneamente, e spero che lui non vuole dirle A di Vanessa, B del suo dono. E allora sta cosa rimane un po' in sospesa, poi accadono cose. Esatto, noi ci fermiamo nel momento in cui decidono di incontrarsi, insomma, il nostro Felice e Agnese, e si incontreranno alla stazione di Bologna. Però lasciamo il mistero perché accadranno delle cose che porteranno a un bivio, sostanzialmente, questa storia. Ecco, una storia che è sicuramente una commedia romantica, ma che ha anche un fondo di amarezza, sostanzialmente. ci dice un po' che la realtà spesso non è come desideriamo. Anche perché, ora, uno pensa che dare la morte a colori, voglio dire, tu fai una vita felice e se hai fatto cose brutte ti ravvederai, farei cose belle. No, in realtà, se una persona ha fatto cose brutte, regali il mondo migliore possibile, quello è il mondo migliore possibile. continuare a fare cose brutte che non puoi più fare. Se sei un serial killer di bambini e non puoi più farlo perché è successo qualcosa, il tuo mondo ha colori e tornare a farlo. Perché il nostro Felice non controlla l'illusione. Lui, in genera, quello che per il moribondo è il miglior futuro possibile e immaginabile. Lui non ha la regina di questo mondo. Lui può osservarlo da fuori a pratti e intervenire, ma solamente non può cambiarlo, non può modificarlo. Può solo entrare e parlare un attimo con il personaggio. Ma ognuno ha il suo mondo felice e non è tutto uguale. E non è tutto identico, non è tutto rosa, anzi. Ognuno ha il suo mondo bello. E infatti anche in questo caso, come hai citato, senza entrare troppo nei dettagli, effettivamente ognuno ha un concetto di felicità diversa. Insomma, poi in alcuni casi nel libro rientra anche in reati di tipo penale, ovviamente, ma non solo. Insomma, quindi anche la felicità, diciamo, è relativa, ecco, da questo punto di vista. Senza entrare ancora troppo nel libro, perché davvero è un viaggio che il lettore deve fare, facendosi stupire dall'inizio al finale che lasciamo intendere sicuramente sorprendente e aperto in un qualche modo all'interpretazione, diciamo così, del lettore. Ma ecco, ti chiedo, come ultima domanda, che cosa ti piacerebbe invece che il lettore portasse via con sé una volta finito di leggere il libro? È una bella favola romantica, una bella storia d'amore, in realtà con degli ucchivoci, con Lucio Dalla come grande punto di riferimento, perché Lucio Dalla è nello sfondo costante di questa vicenda, in varie maniere, sia musicalmente come statua nella piazza di Bologna. Un'entrazione di una bella favola d'amore con un tocco decisamente... Quando hai visto, se mi lasci, ti cancello, titolo agghiacciante, stupiamo tutti che non è titolo vero di quella, è una storia d'amore classica, due persone che sono lasciate. Però c'è un tocco assolutamente fantascientifico, vogliamo chiamarlo leggermente sopra il classico, e che lo impreziosisce. Questo romanzo è una storia d'amore per le persone che si incontrano, si amano a prima vista, non riescono a stare insieme perché lui ha un'altra, perché c'è qualcosa di mezzo, e poi si rincorrono e poi ci sono ucchivoci, poi ci sono appuntamenti mancati e poi c'è una questione sotto che è la morte ai colori, che sta nell'aria e il lettore sa che prima o poi esploderà in qualche maniera. Sì, sappiamo che quando Gianluca Marozzi parla di commedia romantica dobbiamo aspettarci di tutto, insomma. Sicuramente qualche sorpresa e qualche brivido percorrerà anche il lettore che ti conosce meno sicuramente, ma anche chi ti conosce un po' di più sa che potrà aspettarsi sempre una qualche sorpresa. Quindi noi non possiamo fare altro che, ovviamente, ringraziarti per essere stato con noi, consigliare La morte a colori, pubblicato da pochissimo, disponibile in libreria per Fernandel. Grazie per essere stato con noi. Grazie, ciao. Grazie a tutti.